Siamo qui con Marco Affronte, eurodeputato indipendente del gruppo Verdi, per parlare della situazione degli stock ittici in Europa. Ogni anno la Commissione europea presenta un report sulle prospettive di pesca. C'è qualcosa che ci può dire emerga con nettezza da quello per il 2018? Quello che emerge in maniera molto chiara è che se noi andiamo verso l'FMSY, che sarebbe praticamente la mortalità dovuta alla pesca in base all'MSY, cioè il massimo rendimento sostenibile, man mano che noi andiamo verso questo livello di pesca che è la pesca sostenibile, otteniamo una pesca più produttiva. Quindi se noi ci muoviamo verso una pesca più sostenibile abbiamo stocks che si riprendono, ma anche economia e il settore che si riprende. Dove è successo che gli stock si siano ripresi, come dice lei, e dove invece gli stock non si riprendono? È successo ed emerge anche questo chiaramente nel report e purtroppo è una costante che rivediamo ogni anno e che in tutta la fascia nord-est dell'Europa, quindi nei mari del nord, il Baltico in particolare, dove abbiamo un sistema di quote, di pesca sostenibile e di obiettivo all'MSY, gli stock si stanno riprendendo e abbiamo una redditività e un settore che sta riprendendo forza. In Mediterraneo e nel Mar Nero, dove la situazione degli stock è di sovrapesca addirittura oltre il 90-92% degli stock sovrapescati, ovviamente anche il settore è in grandissima difficoltà, quindi abbiamo un duplice problema. D'accordo, poniamo il fatto, diciamo che è vero che gli stock si riprendono, però la pesca tracolla in questi casi, così ci dicono spesso i pescatori o no? È la paura che hanno i pescatori, cioè che se noi andiamo verso una pesca sostenibile, quindi in qualche modo cerchiamo di contenere quello che noi peschiamo, mandiamo in sofferenza il settore. È esattamente il contrario, perché oltre alla comunicazione della Commissione abbiamo anche degli studi scientifici che accompagnano queste comunicazioni, dove ci sono diversi grafici, uno in particolare è molto chiaro, fa vedere che man mano che noi scendiamo con il pescato per arrivare poi a fermarci, cioè ad andare a un limite che è sempre quello, che è quello del limite del massimo rendimento sostenibile, di contro il grafico della redditività, cioè quanto produce economicamente la pesca, continua a salire nel tempo. Quindi abbiamo stock in salute e settore economico in salute. Quindi la Commissione europea continuerà con la sua politica comune di pesca e continua ad introdurre piani di gestione per zone. Il prossimo, quello su cui si sta discutendo in questo momento, è quello che riguarda il mare Adriatico. Qual è la proposta della Commissione per l'Adriatico? La proposta della Commissione, visto che qui parliamo soltanto degli stock di piccoli pelagici, quindi di sardine, acciughe dell'Adriatico, la Commissione ci dice che gli stock sono in grave crisi, c'è una situazione di emergenza, serve una misura molto forte. La misura molto forte è stabilire dei limiti di pesca molto ristretti. L'unico modo per poterci arrivare, la Commissione non lo scrive chiaramente, ma l'obiettivo è quello, è porre delle quote di pesca. Le quote sappiamo che funzionano e quindi in questo modo si cerca di risolvere il problema degli stock, dei piccoli pelagici in Adriatico che sono effettivamente in grande sofferenza. Lei quindi cosa proporrebbe invece per l'Adriatico? Io proporrei di mantenere la proposta della Commissione per quello che riguarda il sistema di quote. Possiamo discutere su quante devono essere queste quote, è importantissimo discutere su come vengono distribuite a livello sia di Stati, quindi Croazia e Italia, ma anche a livello interno di ogni singolo Stato, ma mantenere su quella che è la misura di porre un limite, cioè porre una quota, perché abbiamo visto che è una misura che funziona, perché può ricreare gli stock e nello stesso tempo ricreare un settore economico florido e che può continuare a lungo nel tempo.